Il discorso Gangi, so che c'è stata una telefonata tra gli addetti ai lavori, però poi il tutto si è fermato, ma non perché non si possa fare nulla, ma solo perché sabato, ripeto, preparavamo la partita, domenica c'è stata la partita, oggi è lunedì, io suppongo che ovviamente ci fosse qualcosa, penso che tra domani e dopodomani dovrebbero concludere qualcosa. Quel colloquio telefonico anticipato dal direttore generale del Barletta 1922, Angelo Angiolino, nel corso della trasmissione di Teleregione Monday Night è diventato qualcosa di più. Massimo Ganci è un calciatore del Barletta 1922. L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì e rappresenta un grandissimo colpo per la squadra allenata da Massimo Gallo, attualmente a zero punti dopo due giornate del campionato d'eccellenza pugliese. Ganci è un attaccante che non ha bisogno di molte presentazioni. 328 presenze e 69 gol tra i professionisti, esperienze importanti in squadre come Monza, Frosinone, Pescara, Regina in Serie A e poi Bari, Cittadella e Salernitana, ma anche Pavia e L'Aquila, senza dimenticare l'ultima annata trascorsa tra Serie A Maltese e Crema in Serie D. Quello che il 37enne milanese potrà mettere a disposizione del Barletta è un bagaglio di esperienza vastissimo, utile ai Biancorossi per risalire la china e conquistarsi un ruolo da protagonisti nel massimo torneo dilettantistico regionale, magari già partendo dal match che li vedrà impegnati domenica pomeriggio al Poli sul campo della capolista Molfetto.